Ciao ragazzi, stiamo andando tutti al supermercato con i miei amici della clinica Capitanati da Duni che ci accompagnerà per questa bellissima serata e speriamo che vada tutto bene e poi facciamo la spesa per una cena tra amici sperando di abbandonare questo anno difficile e rincontrare un anno migliore del 2021 Ciao a tutti, noi siamo in Logistica e stiamo aspettando la mezzanotte per festeggiare il Capodanno quindi è un evento importante per noi. Te cosa auguri a tutti quelli che ci guardano? Ma io auguro un buon 2021, spero che non sia come il 2020 e poi auguro a tutta questa gente qua, a tutti quanti noi, di poter masticare per i prossimi 50 anni Ok, bella moda, ok? Ok, auguri Feliz anno nuovo, molta pace, molta salute a tutti noi e a tutti quanti del mondo e che questa famiglia continua a prosperare tanto Bene, io spero che il prossimo anno non sia come questo che sia un po' migliore per tutto per la salute e per tutti quanti noi Un brinde e un augurio a tutti Un felicissimo anno 2021 a tutti E vai Auguri a tutti, buon anno e finendo l'anno in questo modo è meglio non averlo Dimmi come è stato il tuo 2020 Il mio 2020 è stato, dai, bellino Bellino? Sì, non mi posso lamentare Chi aspettativi hai dal 2021? Aspettativi dal 2021 speriamo che sia migliore per tutti, per il lavoro, per chi ha perso il lavoro e per chi ha bisogno di lavorare, che è quello importante la salute, la serenità e la pace Cosa auguri a tutti quelli che ti guardano ora? Auguro tanta serenità e salute, che è la cosa più importante Niente, io quest'anno sono contenta che sto diventando nonna per la terza volta E spero che questo nuovo anno sia migliore di quello che abbiamo, purtroppo Che va di tutto bene, tanta serenità e tanto amore a tutti Auguri E io, tanti auguri a tutti, c'è tutti dei bravi ragazzi e viva la Moldavia E vai, e viva E auguri a SOS Turismo Dentale, perché siete dei grandi, grazie di cuore E vai, buon anno a tutti Buon anno a tutti Ma non baci così, baci così E vai E vai, buon anno a tutti